buongiorno buongiorno allora come sapete abbiamo il fuori tutto uomo come avete visto stiamo facendo la svendita tutto l'uomo perché purtroppo dal dalla parte del lockdown praticamente da dal lockdown in poi l'uomo non si è più vestito e questo lo sappiamo va bene e no scherzo stiamo togliendo l'abbigliamento uomo e l'abbigliamento che è rimasto sullo stendino 10 20 euro tutte le cosine della boutique che stiamo dando via e abbiamo tutte le t-shirt le polo i cappellini allora la pochetteria i portafogli le cinture rimarranno i cappelli non ci saranno più e li stiamo dando via tutti a 35 euro che sapete che sono i cappelli del cappellaio matto e c'è il nostro amico Enrico che è il top del top e noi purtroppo però l'uomo lo stiamo eliminando e quindi toglieremo anche quelli le cravate stanno tutte tutte 20 euro e se ne acquistate due verranno 30 euro cioè due 30 euro praticamente poi ci abbiamo gli sconti su tutto sulle ultime polo sulla parte cappellini sulla parte borse aeronautica pochette tra colline tutto 40 per anche sulla pelle ragazzi vi aspetto se dovete anticipare qualche regalino che sapete ci sarà settembre ottobre approfittate vi aspetto con il fuori tutto poi abbiamo ancora il tavolino donna che si sta piano piano affievolendo perché come vedete abbiamo dei buchi anche qui sono le ultime borsettine ecco qui vedete ci sono tanti buchi e ci stiamo sbrigando perché sta arrivando la parte nuova c'è la parte di kelly cross sarà un continuativo quindi adesso ci facciamo lo sconto ma la collezione aggiunge soltanto dei pezzi stessa cosa per gli orsetti abbiamo di nuovo lo sconto del 40 che ci ha fatto annibia il nostro amico anni eccolo che sbuga anni ha detto che possiamo fare il 40 su tutta la linea orsi continuativa e questa sarà questa e perché le forme nuove le abbiamo avute ad agosto quindi ce l'ho da agosto e pelletteria veneta ci stiamo facendo lo sconto anche loro sono continuative quindi saranno queste borsine qua però riassortite quindi approfittate che adesso c'è lo sconto ok vi aspetto eri di propomeria centro commerciale palma super sconto super svendita